11 dicembre, dalle 9 alle 14, presso la sala conferenze della Fondazione Clotilde, hospice in Cicciano, la delegazione regionale di Favo Campania presenta il tredicesimo rapporto sulla condizione socioassistenziale del malato oncologico. È un'importantissima occasione per far conoscere a tutti i cittadini quali sono le nuove frontiere della cura di questa importante patologia. Vi aspettiamo. Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità che mi è stata data di inviare questo breve messaggio, che è un messaggio di saluto, di augurio di svolgimento di buoni lavori per questo congresso, per questo convegno, per questa tavola rotonda, in ordine al tredicesimo rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici della Fondazione Clotilde a Cicciano. In particolare grazie al dottor Capuano che mi ha contattato per questo brevissimo contributo. Io non ho competenze scientifiche dal punto di vista medico perché sono un giurista e poi sono uno scrittore e un po' unendo le due esperienze degli studi giuridici dell'attività di magistrato e della scrittura è nato qualche anno fa, precisamente due anni e mezzo fa, un libro che si intitola Il tempo di morire e che è una riflessione sul fine vita, una riflessione a metà strada tra il saggio e la riflessione personale. Voglio partire proprio da un racconto personale molto breve che credo dia il polso a tutti noi di alcune delle cose che saranno, credo, evocate da questa giornata di studio e di confronto che non vuole essere solo un approfondimento di tipo medico ma una presa di coscienza culturale che largamente difetta a questo paese e soprattutto direi al Mezzogiorno d'Italia. Qualche mese fa una cara amica che è peraltro una biologa ha perso la madre di tumore di un tumore che ha ingenerato una fase finale di grande sofferenza e i medici che seguivano questa signora avevano indicato delle specifiche cure palliative che avrebbero dovuto e potuto essere attuate in casa nella fase finale della malattia. La figlia non ha ritenuto di somministrare queste cure per una paura di accelerare il processo di morte per una sorta di, io direi, di terrore di avvicinamento della morte e di possibile senso di colpa e quindi di successiva colpevolizzazione rispetto alla morte materna. Ecco, questo è un racconto di vita e noi dovremmo sempre raccontare e raccontarci queste esperienze di vita quando diciamo che è necessaria una presa di coscienza culturale rispetto al problema del fine vita e quindi anche delle cure palliative rispetto a ogni tipo di malattia e certamente al malato oncologico che è una realtà che disgraziatamente ci può riguardare tutti molto da vicino. Ecco perché la cultura del fine vita e dell'uso delle cure palliative è fondamentale che è fondamentale per la dignità della fine, che è uno dei valori principali della dignità umana per il quale tutti noi dovremmo combattere. E raccontare le storie, questo era il senso del libro e il senso anche di questo intervento, raccontare le esperienze personali di vita vissuta è sempre lo strumento più autorevole, più potente, più significativo perché quei semi di coscienza culturale possano poi dare nel tempo di frutti anche legislativi, il dottore Capuano mi diceva di una legge della regione Campania che non è stata più adottata e che giace e forse dovrebbe essere cura di tutti noi e quindi sollecitare con convegni come questo la ripresa del dibattito per l'adozione di una legge regionale in Campania. Vi ringrazio e ancora vi auguro buona giornata e un proficuo confronto su questi temi.